Buongiorno, siamo Pia Rivi, attestando il Criato Magazine, Amir 2023, siamo con Marco Giovanetti, all'Unsende chiamo Aria, ma c'è un'industria, l'ultima serie a Miraglia e l'ultima a Miraglia. Ok, allora, abbiamo qua la RIVAGE BM5, mixer modulare e fascia di capo di fascia alta, la particolarità è che il mixer per il proprio è la DSP, ci sono tre tagli di DSP, ovviamente con diversi numeri di canali, di ingresso e di uscita, quindi si può scegliere il taglio che si preferisce, e poi ci sono diverse superfici di controllo, qui abbiamo la PM5 e l'intermedia, dall'altra parte dello stand abbiamo la PM3, qui esistono la PM7 e la PM2S, che in questo momento abbiamo al nostro stand. Queste macchine appunto sono dedicate a un target di fascia alta per concerti e spettacoli di off-desert. Poi, come novità assoluta della fiera, abbiamo la nuova PM7, che è una marchitrice ad architettura aperta, anche questa di fascia molto alta, andiamo da una base di partenza di 64 in e out Dante, espandibile a tagli di 64 canali per volta, fino a 256 in e 256 out, a 96 kg e ovviamente con architettura aperta e quindi che ci consente di andare a coprire tutti i target di installazione o qualunque altro genere di installo, che si potrebbe avvenire.